oh yeah ragazzi della serie a volte ritornano finalmente sono di nuovo qui con voi ragazzi qualcuno dirà ma che fine hai fatto e qualcuno dirà ma chi cazzo se ne frega e ci avete pure ragione ma sono mancato per un motivo solo ebbene sì tiktok mi ha preso un po di tempo ma mi ha dato tanti follower tanti ma non esageriamo una ventina di migliaia di persone che per me visti i numeri che facevo qui su youtube sono molti cioè voglio dire capito nulla da discriminare ragazzi nulla volevo ritornare qui su youtube da tempo ormai e finalmente è arrivata l'occasione giusta anche perché oggi voglio parlarvi della mia esperienza su tiktok e poi vi prometto che ricomincerò a riposta e poi vi prometto che poi vi prometto che comincerò a postare video di nuovo su youtube costantemente ma prima facciamo un passo indietro ok allora mi sono iscritto a tiktok nel dicembre del 1974 ma che cazzo stai a dico no nel 2019 e ho pubblicato un video soltanto fino ad aprile di quest'anno e da lì ho deciso che volevo pubblicare video costantemente e l'ho fatto e infatti dopo un paio di settimane sono arrivati i miei primi mille follower un piccolo appunto se siete qui per scoprire cose sull'algoritmo e tante altre cose non è il video che fa per voi perché non ci ho capito un cazzo nemmeno io e comunque dicevamo ho avuto i miei primi mille follower con un video che è andato virale che ha fatto 100.000 visualizzazioni e con un trend che io ho riproposto se riesco a trovare il video lo vedrete qui o qui da qualche parte altrimenti andate sul mio tiktok scorrete fino in basso in basso lo vedrete poi continuando 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 fino ad arrivare ad agosto ho ottenuto sempre buoni riscontri da aprile ad agosto però non erano proprio il massimo ma arrivati ad agosto ho pubblicato un video il mio primo video virale davvero mi ha fatto quasi 500.000 visualizzazioni e mi ha fatto fare più di 10.000 follower quel video lì ma comunque era luglio era luglio e il video ve lo probabilmente ve lo posto qui poi da luglio ad agosto tutte rose e fiori sono arrivato a intorno ai 15 16 17.000 follower in una cosa del genere da fine agosto fino adesso la decadenza più assoluta le tempeste i nubi fragili comunque le cose non sono andate bene diciamo così e mi ritrovo ad oggi con quasi 23.000 follower questo è un piccolo risultato è assolutamente solo che semplicemente mi sono trovato in difficoltà perché c'è alcuni video che postavano non arrivavano nemmeno a 200 visualizzazioni nonostante io avessi quasi 23.000 follower ragazzi e mi sono un po abbattuto ma poi ho ripreso ho ripreso anche se non faccio molte visualizzazioni ma d'altronde dicono dicono io lo vedo solo con me sta situazione ma dicono che le cose non vanno molto bene per quasi tutti i creator e quindi va bene eh sì ragazzi sono un creator un creator di tiktok e infatti ho aderito anche al fondo per creator ma la cosa c'è l'unica cosa che posso dirvi per certo è che non si guadagna un cazzo semplice si guadagna da un centesimo ai tre centesimi mi sembra ogni mille visualizzazioni dipende dal dalla qualità del video dalla durata del video e dalla qualità del video la qualità del video ce l'ho detto sì vabbè da queste due cose in poche parole e io da settembre ad ora ho guadagnato la bellezza di lo so lo so sono ricco ma comunque non è questo che conta volevo arrivare a questo punto qui il bello di questa esperienza è che mi ha portato un sacco di follower reali nel senso che ci sono realmente persone affezionate ai miei contenuti questo intendo dire e questo mi dà molte molte soddisfazioni davvero grazie questo probabilmente sarà un video corto ve lo dico subito anche perché appena siete entrati per vedere il video avete visto quanto dura quindi già lo sapete questo è un video solamente per dirvi di quanto sono contento della mia esperienza su tiktok e per dirvi che ritornerò ragazzi a postare video costantemente sia qui su youtube che ovviamente su tiktok la continuo sempre a profusione e ragazzi è stato veramente un piacere raccontarvi un po' della mia esperienza e ci vediamo a un prossimo episodio ragazzi ciao